Il notto è il dono revi Il dono volo guardi uno bacio giovane Faccia una cosa, lei va Ma quello le cose No! Lo sa Che loro lo sa ... Sono fantastici insieme, sono veramente fantastici. Grazie a tutti i collaboratori di Ada, sono stati veramente fantastici, stavate sul lavoro, e poi i professori, i collaboratori dei docenti, insomma tutti, soprattutto la professoressa Giovanna Pellarese, tutta la seguita cosa, ma mi chiamo... Ma no! Ma ci va bene? Eita, non faccio ciò! Eita, grazie, 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 ma tu va! Ecco, la professoressa Pellarese, che è stata veramente, grazie, grazie, grazie!